Quando sono in giro per il mondo per i miei concerti cerco sempre di portarmi un pezzetto di casa appresso e questo è difficile quindi mi cerco posti italiani dove posso mangiare la buona cucina italiana e trovare del buon vino. Dove trovo tutto questo? Qui lo trovo dal Grand Chalet Tony Spiducci e dove posso bere un bel bicchiere di vino albea. Da Grand Chalet Tony Spiducci buona cucina vino albea parola di Gio di Tarno salute